Buongiorno a tutti, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana, la parasha è una bellissima parasha, la parasha di Shemini, non solo parasha di Shemini, anche questo Shabbat un'altra volta faranno uscire due sefarin, due libri della Torah, uno si leggerà parasha Shemini e un altro si leggerà parasha Tachodesh, perché sempre lo Shabbat, prima capo mese di Nisan, leggiamo parasha Tachodesh. E la parasha, possiamo dire che ci sono due argomenti principali, l'inaugurazione del tabernacolo, che fa parentesi, era Rosh Tachodesh Nisan, quindi che bello che nel Shabbat, che si benedisce il mese di Nisan, si leggerà la parasha di Shemini, che parla dell'inaugurazione del Tempio. Però oggi voglio parlare sulla seconda parte della parasha, la parasha che parla della kashrut, quali sono le cose che un ebreo può mangiare, quali sono le cose che l'ebreo non può mangiare. E dice la Torah, Dice al popolo Israele, Zot Achaia, Zot Achaia, Zot Achaia, Zot Achaia, Che vuol dire Zot Achaia, E questo è l'animale che potete mangiare, tra tutto il bestiame. E la Torah inizia a raccontare quali sono le condizioni per poter mangiare un animale. Dice la Torah due condizioni. Uno, Il zoccolo deve essere spaccato. E la seconda cosa, Deve essere ruminante. Il Zot Achaia, Se avremo tempo, Spiegheremo troppo perché sono quelli le due senni. Achaia poteva creare l'animale in un modo così che un male, che un animale che ha una coda sarà Kacher, e un animale che non ha una coda sarà non Kacher. O un animale bianco sarà Kacher e un animale nero sarà non Kacher. Invece il creatore ha scelto due segni molto interessanti, molto particolari e c'è tanta profondità sotto questi segni. Un zoccolo che è spaccato, ossia spaccato in due totalmente, e il secondo che è ruminante, ossia lui mangia e dopo rimangia e rimastica e rimangia e rimastica a quattro stomaghi. Però prima tutto questo. Che dice? Iparla alle figli di Israele? Zot Achaia! Questo è l'animale? Che potete mangiare tra tutto il bestiame. E qui sembra che la Torah sta dicendo due volte la stessa cosa. Questo è l'animale che può mangiare tra tutte le bestiame. E dice subito, questo è il bestiame che puoi mangiare, questo è l'animale che può mangiare. Perché deve dire, è l'animale che potete mangiare tra tutto il bestiame. E in italiano non c'è risposta. Però in ebraico dice Zot Achaia. La parola Chaya in ebraico possiamo tradurre in due modi. O come che hanno tradotto qui in italiano animale. O Chaya non voglio dire solo animale. Chaya voglio dire vivo. Dice Rashi, tu devi mangiare un animale che è vivo. Che vuol dire un animale che è vivo. Non c'è un animale che è morto. Sì. Quando nasce l'animale è vivo. Quando tu lo uccides è morto. è ovvio che dipende della sua situazione. E questo Rashi incredibile. Vita voglio dire perché il popolo di Israele deve collegarsi alla vita. Chi è la vita vera? La vita vera è il creatore. È il modo di essere vivo. Spiritualmente. Illuminato. Vicino al creatore. Come si fa? Mangiare animali che sono vivi. È incredibile. Se noi pensato. Dicono le maestri. E l'uomo è lo che lui mangia. Lo che tu mangi è lo che tu sei. Noi è la nostra DNA. Ok. Dove va? Dove va questa cosa che viene mangiata? Tu la mangi. Entra dentro il tuo corpo. Il corpo fa tutto quanto. E manda tutto al sangue. Il sangue fa girarlo in tutto il corpo. Sa di chi il sangue? Come le maestri? Nefesh. Chi ha dam hua nefesh. Dove sta l'anima nostra? Dove? Le maestri ci insegnano che l'anima sta nel sangue. Quindi tutto che tu mangi dove va? Non solo al corpo. Va subito all'anima. Perché in questo sangue le maestri ci insegnano. Lá c'è l'anima. E per questo tzaddikin. Dovete sapere. La Torah. Quanto la Torah ha fatto dell'ebreo un umano così speciale. Lascia fare come lui si comporta. Lascia fare lo che lui può fare e non fare. Solo il fatto che può mangiare solo animale. Adesso è vero che avere un zoccolo spaccato. E essere ruminante sono le segni. Però questi segni sono un segno per un tipo di animale. Tutti gli animali cacersadikin sono animali domestici. Sono animali che si possono domesticare. Una mucca. Un capretto. Una capra. Sono tutti pecore. Sono tutti animali. Tranquillo. Non mangiano carni. Non hanno aggressività. Non vedrai loro uccidere qualcuno per mangiare. E poi questo zaddikin. A dentro di noi c'è questa tranquillità. Questa anti-aggressione. Perché? Perché lo che tu mangia ti influenza. E non solo questo. Questa è una cosa che già è nel nostro DNA. Perché il nostro nonno è bis bis nonno. E bis 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 nonno. Hanno tutti mangiato animali che non uccidivano per mangiare. A parentesi. Noi vediamo che la crudeltà è una cosa che non si trova nel popolo ebraico. Per esempio un uomo che fa kamikaze. Che vuoi dire kamikaze. Che è pronto a morire. Uccidere su stesso. Non abbiamo mai visto nella storia ebraico ebrei che sono kamikaze. O ebrei che sono pronti a uccidere loro stesso per uccidere altri. Perché? Perché non c'erano mai terroristi nel popolo ebraico? Molto semplice. Con il cibo che loro mangiano. Perché se tu mangia un animale che è agressivo e ha uccidato tutto il giorno. Anche tu ucciderai nel filo. Tu sei lo che tu mangiai. E dicano le maestri. Ani Hashem lo keichem. Amma alle etichem me Eretz Mitzrayim. En la nostra parasha. Quando si parla della kashrut. Chiedi che ha cadosh barucho e io sono il vostro creatore. Che ti ha fatto uscire d'Egitto. Sa di chi? In la Torah c'è scritto più o meno 50 volte la uscita d'Egitto. Casi ogni Mitzvah è collegata all'uscita d'Egitto. E metterete il Zizito che ti ha fatto uscire d'Egitto. E farete il Shabbat per ricordare l'uscita d'Egitto. E mettete la Mitzvah per ricordare l'uscita d'Egitto. E mettete il Tefilim per ricordare l'uscita d'Egitto. E una delle cose che viene associata all'uscita d'Egitto è il fatto che si deve mangiare kashem. E qui c'è un grande punto. E in tutta la Torah quando si parla dell'uscita d'Egitto viene usato le verbe ozzetti. Ozzetti. Literalmente voglio dire ti ha fatto uscire. E invece qui la sola volta. E l'unica volta in tutta la Torah. E non si parla di uscire. Però si dice che hama'ale etichem me'erets Mitzraim. Che voglio dire ma'ale. La traduzione literale di hama'ale etichem. Vi ho fatto salire. Salire non in il senso di uscire. Uscire è andare destra e uscire della porta. Salire. Salire. Alzare. E ha fatto alzare. La traduzione literale ha fatto alzare della terra d'Egitto. E chiede mai si scusa. Tutta la Torah quando tu parla di Egitto non parla di alzare. Ti parla di uscire. Perchè qui viene usato proprio il verbo alzare. Dicano le maestri. O che Ascenti ha fatto uscire da Egitto. Non solo per essere fuori fisicamente da Egitto. Ascenti voleva alzare di essere il popolo suo. E adesso uno può chiedere in che l'Ebreo è diverso dall'altro. E in che cosa l'Ebreo è più elevato dell'altro. Perchè è più saggio. Ma come la dici ci sono altri popoli forse anche più saggi dell'Ebreo. Perchè sei più bello. Forse sei bello. Però ci sono anche altri che sono più belli. Perchè sei forte, no? Dice la Torah. Io ti ho fatto alzare. Per il fatto che tu mangi solo cibo che è cashier. Non mangi tutto. Cibo che non è caratteristiche umane. Non si può mangiare. Bellissimo. Anche le pesci stessa cosa. Per esempio, tutti le, come si chiama, frutte di mare. Noi non mangiamo mai sia frutte di mare. Dice la risa perché non mangi frutte di mare. Dice la risa perché frutte di mare sempre tu lo trovi di solito sulla terra del mare. La terra del mare è piena delle feci di tutti gli escrementi di tutti gli altri pesci. Quindi, in altre parole, le frutte delle mari. Adentro non è pulito. Non è pulito. E per questo sa di chi? È diverso. Lo che fa alzare l'ebreo è la cashier. E un ebreo che non mangia cashier non può essere considerato uscito d'Egitto, sì. Però non alzato d'Egitto. Perché alzamento solo è la nostra parasha. E questo sa di chi? Quanto è importante mangiare cashier? Quanto questo influenza? Quanto influenza questo ha? Dice il Shuhana Ruch che se un bambino vuole allattare e c'è una donna ebrea, deve allattare ad una donna ebrea. Non può allattare ad una donna che non è ebrea? Perché? Adesso sa di chi? Oggi questa cosa sembra... Va bene. Qual è il problema? Andiamo al supermercato, ricompevamo latte in polvere e diamo al bambino a bere. Però, mille anni fa non c'era latte di polvere. Una madre che non aveva latte per dare al suo figlio, perché il figlio vivere è non morirà, chasvello, deve trovare un'altra donna che non aveva latte. E non si non trovare un'altra donna che non aveva latte, la sua terminata. Dice il Shuhana Ruch Tu deve cercare una donna ebrea. Se non c'è una donna ebrea, ovvio, la vita più importante di tutto, anche una donna, perché quel problema di una donna non ebrea? Mi resti molto semplice. E il latte viene dello che hai mangiato. E se la donna non ebrea mangia non cachero, vuoi dire che questo latte ha dentro c'è la crudeltà degli animali crudeli. E questo latte, se tu lo dai al bambino, questo entra dentro e ha influenza. Da dove si impara questo? Da Moshe Rabbeinu, dice Shuhana Ruch quando Batia prende Moshe Rabbeinu, mostriamo tutta la storia sul Nilo, e lui sta piangendo per come non ha mangiato due o tre ore, e cerca una donna per dare mangiare a Moshe, e Moshe Rabbeinu non è pronto a mangiare di nessuna. Tutti gli egiziani che la principessa che Batia porta a lui non è pronto a mangiare, fino a che si porta a Moshe Rabbeinu una donna ebrea. Zedekin, c'è una cosa incredibile. Shuhana dice noi sappiamo che Moshe Rabbeinu balbetava. Che Moshe Rabbeinu balbetava? Qual è la storia? Dice Migrash che un giorno Moshe Rabbeinu era sulle ginocchi del faraone, e ha visto la sua corona di oro che era bella sulla sua testa, e ha preso questa corona e l'ha messo sulla testa sua. adesso noi che siamo uomini e semplici diciamo va bene il bambino sta giocando, che succede? Gli egiziani erano saggi, avevano streghi, astrologi, gente filosofiche, hanno detto di questo bambino già di questa età prende la corona del faraone. non è un gioco, vuol dire che lui sarà il prossimo re. Un giorno lui caccerà via il farone e lui sarà re. Facciamo un test, vediamo. mettiamo il bambino, da un lato mettiamo il fuoco, dall'altra parte vediamo l'oro. Se lui toccherà il fuoco vuol dire che lui stava giocando, così ha preso la corona, non c'è nessuna significazione. Se lui toccherà l'oro vuol dire che lui sarà un re. E Moshe Rabbeinu che vuole toccare? Vuole toccare l'oro. E viene un angelo esposto la sua mano e tocca il fuoco. E là nel fuoco c'erano carboni. Prende un carbono dentro il mano. Qual è l'instinto di un bambino che mai sia prende un carbone dentro il suo mano? Lo lascia subito, un istinto umano. Tu non devi insegnare a un bambino questa cosa. Invece Moshe Rabbeinu non la lascia. A dentro il suo mano lo mette a dentro la bocca questo carbone. E per questo ragione Moshe Rabbeinu balbedava. Direi maestri, che cosa sta? Che Moshe Rabbeinu ha messo dentro la bocca? Perché non l'ha lasciato subito? E non solo questo. La cosa più strana è che Moshe Rabbeinu, anche quando incontra il creatore, non chiede del creatore essere guarito. Quando Kadosh Barquur dice a Moshe Rabbeinu, vai a uscire il popolo di Egitto, iniziano a discutere, e Moshe Rabbeinu dice, sì, io malbeto, non posso parlare, manda il mio fratello Aro. Qual è il problema? Chi ha dato la bocca? Chi ha creato lui? Perché Moshe Rabbeinu non chiede di essere guarito? Dice il Shach, all'uno della risa, è una cosa incredibile. Voi sapete perché il bambino Moshe ha lasciato le carbone nel bocca e non l'ha lasciato così? O che quando Battialo ha fatto uscire del Nilo, lo ha fatto a tutte le donne egiziane di alatare. Lui non ha bevuto però un po' di latte, ha toccato le sue labbi. E come si cacerizza una cosa che non è kosher? Adesso prima di Pesach la facciamo tutti, le pettole, tutti quanti, con fuoco! Quindi il carbone che Moshe Rabbeinu ha messo sulle labbi era per cacerizzare addirittura. E l'atto che non fu bevuto fu solo toccato le labbi. E poi questo Moshe Rabbeinu non ha chiesto mai essere guarito. Perché anzi, questa era la sua guarigione. Il tzadikim, che ha lasciato nessuno di noi adesso per prendere il carbone, non è quello il messaggio della lezione. Sì, però ti fa capire quanto influenza ha. Che addirittura Moshe Rabbeinu mette carbone nella bocca, non perché ha bevuto, solo perché ha toccato le sue labbi. Tzadikim. Lagmarà racconta una storia. C'erano quattro che sono entrato vivo nel paradiso. Quattro sono entrato vivo nel paradiso. Uno è entrato e è morto. Perché era troppo santità per lui. Non la faceva. E l'altro è divenuto pazzo, povercio. Ha perso l'ora. Ho detto sì, sì, già non era. Sì, ha visto cosa ha perso. E l'altro? A chi va? Lui è il solo che è entrato vivo e è uscito vivo. Lui è il solo che aveva la capacità di vedere questa santificazione in maniera vivo e normale. e il quarto è Elisha Benavuia. Elisha Benavuia è entrato e è uscito eretico. Addirittura. Un rabbino che è arrivato a un livello così alto, che è entrato nel paradiso vivo e è uscito eretico. E non è maestro, perché? Questo che molto capisco. Non la faceva. Non la faceva induare la santità. Quello che si impazzita anche lui. Quello che è uscito vivo, rabbia attiva, capisco. Quello che è diventato eretico. Da quanto uno è entrato e arriva in paradiso e esce eretico. E che non è maestro, non è colpa sua. Elisha Benavuia quando la sua madre era incinta da lui. Voi sapete che c'è un Allaham molto interessante. Quando una donna è incinta e lei vede un cibo e lei ha un voglio grande per questo cibo, c'è un obbligo a dare a questa donna il cibo. Obbligo, dice la Gmarà, è pericola di vita. Sentite questo. Una donna che è incinta, che ha un voglio forte per un cibo, chasve shalom, se non si dà il cibo, chasve shalom può essere un pericolo di vita. E per questo, se la moglie tu è incinta, e alle tre della mattina lei ti dice, porta a me un caramello, tu vai, prende la macchina o il motorino, vai a cercare un caramello in un negozio che è aperto. Perché? Così si fa. Mi dicono le maestri, che succede quando una donna è incinta, sento un odore di un cibo che non è cacero. E lei ha bulmus, ha una voglia. E noi sappiamo che questa voglia ha giocci non viene dato, può morire. E si va, si fa questa donna e si dice, tu sai che questa cosa non è cacero. Tu sai che questa cosa è divietato di mangiare. E si dice, non mi frega, io adesso voglio mangiare. Dice l'alachà, diamo alla donna a mangiare. che la vita è più importante di tutto. E l'alachà racconta che un giorno, quando Elisha Benavuia era nella pace della sua madre, la sua madre ha camminato per strada e ha sentito un odore di un carne non cacere, che stava bruciato sulla griglia come sacrificio per l'idolatria. E lei ha sentito questo odore del carne che brucia come un sacrificio di idolatria e non la faceva. E ha mangiato un pezzo. Non è mai sì, lei ha mangiato. E il pezzo ha circolato nel suo corpo, uscito nel lato, entrato addentro il bambino, e come il veneno del vipera è rimasto addentro fino a che un giorno è uscito. E poi questo Elisha Benavuia è diventato il re. Incredibile. Ma anche lui, non è che lui non ha mangiato, ma la sua madre ha mangiato un pezzo. E le maestre, la gente non capiscono. Tutti le trasgressioni che vengono fatte sono, diciamo, c'è una strada di purificare questa trasgressione. Perché? Perché qualsiasi cosa che tu fai sbagliato, di solito, o sempre, in altre parole, è una cosa esterna. Non hai messo tfilino, non hai parlato giusto, non hai fatto shabbat, hai fatto qui, hai fatto là, hai rubato, mai si è ammazzato. Sono tutte cose esterne. Non è una cosa addentro. La sola trasgressione che l'uomo può fare è che una cosa ha dentro, non è una cosa fuori, fa parte da te, divina parte del tuo corpo, del tuo sangue, del tuo anima, è quando tu mangi una cosa. Quanto è importante che il cibo sarà buono, che il cibo sarà puro. Si racconta su Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan era 80 anni Cohen Gadol. Sapete che vuol dire essere Cohen Gadol? Il Cohen Gadol, il capo sacerdote, il Betamindash. Lui una volta all'anno dove va? A Yom Kippur, dove entra? Nel Codice Codashiva, nel Santo del Santo. Si è il Cohen Gadol, entra nel Santo del Santo di Kippur e ha un pensiero, non parlo di un pensiero cattivo ma è sì, ha un pensiero profano, lui subito muore. Perché là c'è tanta Kedusha. Esempio, lui entra dentro e sta pensando che mangerò dopo Kippur, subito muore. Lui entra dentro e sta pensando quanto sono il cibo nella banca, ma dopo non sono stati veri che sono, diciamo, di vieto. Anzi, non sono pensieri che un uomo può pensare. Un Cohen Gadol che entra nel Santo del Santo non può manca avere un pensiero profano. E per questo un Cohen Gadol che entrava nel Santo del Santo di Kippur e non era un saddico, non usciva a vivere. Per questo il Cohen quando entrava di Kippur a Betamindash nel Santo del Santo e lui entrava con Kadele. Ok? Perché se lui mai si muore, chi può entrare dentro del Fahushir? Ha una paura di entrare. E, 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 ha paura. È un posto così, Kadosh. E, 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 chi può entrare? Si racconta che nell'epoca del secondo Betamindash ogni anno il Cohen Gadol moriva. Perché? Perché nel primo Betamindash e anche nella prima epoca del secondo Betamindash il Cohen Gadol fu scelto secondo la capacità cioè un uomo che è degno, si comporta bene, che è dushà, è un saddico. Però nel fine del secondo tempio chi ha governato in Israele? Le romani. Le romani, prima di distruggere il Betamindash, loro che hanno fatto? Hanno fatto così che il nomino del Cohen Gadol sarà un nomino politico. Osea non dipende di quanto sei saggio, bene, santo, saddico. Tu andavi là, pagavi i soldi all'imperatore o quello che era quello che gestiva Gerusalemme per le romani e lui ti faceva Cohen Gadol. O che succedeva? Tu pagavi per essere il Cohen Gadol perché dovete capire la gloria di Cohen Gadol. Questo ti aiutava fino all'entrata di Kipur. Quando tu entriva nel giorno di Kipur ha detto basta. Se poi è terminato, tu non uscivi. Perché? Tu non sei degno di essere un Cohen Gadol. Non sei degno di essere caposa, c'è il dolore che sta nel Betamindash. Adesso voi mi potete chiedere però scusi. Questo Cohen che va. Lui paga sapendoci che a Yon Kipur e trandoci lui muore. Che senso ha? E la Gman racconta che più di 200 coani mi hanno fatto così, hanno pagato. Che senso ha? Possiamo dire due risposte. La prima risposta è che tante volte l'uomo che riesce tramite la corrupzione arrivare a un posto non davvero pensa che lui è corrotto. Se è ovvio che questi Cohen che ha pagato allora dicono sì, ovvio io ho pagato. O io sono degno. Io sono degno di essere Cohen Gadol. Possiamo vedere la illusione. Tante volte l'uomo si comporta in un modo sbagliato per ottenere le cose che a lui si sembra che è la cosa giusta per lui. E poi questi Cohen era sicuro. Io sono cazzadì. Io entro nel Betta Migdash e nel Santo del Santo a Kipur e non succederà niente con me. Questa è la prima risposta. La seconda risposta perché l'hanno fatto? Dio, vai, sì, va bene. La gloria del Cohen Gadol è l'uomo più alto, diciamo, nella erarchia dell'ebraismo, l'uomo più grande che è il Cohen Gadol. Che vestiti aveva il Cohen Gadol? i maestri di qua, dodici, tredi espressioni, uno che ha visto le vestiti, mai ha visto splendore come le vestiti di Cohen Gadol. C'erano gente che dicono, io per la gloria, anche se è per poco, sono pronto a pagare. Anche se deve morire, almeno morirò! chi può dire che lui è morto il Cohen Gadol? Comunque perché dico tutto questo? Rabbi Yohanan, 80 anni, era il Cohen Gadol. Vuol dire, 80 anni, entra, esce, entra, esce, entra, esce. Vuol dire, era un tzaddik! Dicono le maestri, dopo 80 anni, Rabbi Yohanan è divenuto eretico. E tutti le maestri chiedono, come mai può essere lui dopo 80 anni è divenuto eretico? Stessa storia. Quando era bambino, mi è andato a mangiare qualcosa e non piacere. Dicchi quanto è importante è la kashruti. Quanto è importante tutte le cose che uno fa entrare dentro la sua bocca. La kedushah. E questo è un obbligo che ognuno di noi ha. è l'inizio di tutto il cibo che tu mangi. Abbiamo detto tanti volte Avraham a vino voleva convincere tutto il mondo che c'è un creatore e come lo facevi invitava a casa. Mangi. Prima mangi. E se uno dice, perché faceva mangiare? E gli diceva, va bene, ovvio. Che mangio? La fa sentire. Uno che ha fame non la fa sentire. Sì, è anche vero. O c'è una cosa molto più profonda. Travamo vino quelli mangiano maiale, mangiano cosa non coscia. Come lo faranno? Ricevere le parole della divinità di Akkadosh Baruchusi loro non sono puri da dentro. Prima faccio un po' di cibo casher qualcosa pure dopo. Piano piano l'orecchio si aprirà. E questo sa di chi quanto è importante. Ma parentesi che dice la Torah? Dice la Torah adesso un animale casher deve avere due semi. D'accordo? o il zoccolo spaccato scusa, non o e e. E il zoccolo spaccato e deve essere ruminante. Dice la Parashah ci sono quattro animali che hanno solo un stegno di casherut. Ossia o che hanno un zoccolo spaccato o che ruminano. Però non hanno tutti e due. Qui sono questi quattro animali? Dice la Torah il cammello che rumina però non il zoccolo spaccato. il coniglio che rumina però non il zoccolo spaccato. La lepre che rumina però non il zoccolo spaccato. Il maiale che lui ha un zoccolo spaccato però non rumina fa parentesi perché il maiale sempre quando si siede fa vedere le sue piedi. Ah vedi io sono coscio vedi io ho un zoccolo spaccato però non rumina. Sa di chi? In parentesi ci sono tre tipi di animali ricordate questo. o un animale che ha tutti e due segni è kasher o un animale che ha nessuno delle due segni e non è kosher o un animale che ha solo uno delle due. Perché la Torah porta solo quattro esempi di animali che hanno un segno? Non è mai si può che ci sono solo quattro animali in tutta la creazione che hanno un segno. solo il cammelo la coniglia lepra e il maiale hanno un segno tutti gli altri hanno o due segni o nessuno. Adesso non può chiedere però scusa. la Torah fu scritta 3000 anni fa dove quando sono uscite d'Egitto ogni giorno sapete quanto specie di animali si trova che la umanità non ha saputo che esistano? america australia antartica ogni giorno si scopre che ci sta un altro specie di animale che non è conosciuto per la umanità e con tutte le specie che ogni giorno si trova in tutto il mondo ci sono solo quattro animali perché la Torah dice solo quattro animali avranno un segno delle due segni sai di chi? chi può scrivere una cosa così se non è il creatore che ha creato il mondo? può scrivere una cosa in un libro che fu dato alla umanità 3000 anni fa questi quattro animali va andate a cercare in tutto il mondo non troverete altri animali tranne questi quattro questa è una segna di divinità solo uno che ha creato il mondo può sapere questa informazione e non si troverà mai ma se non mai sia se domani si trova forse però non c'è non hanno trovato e non troveranno mai perché la Torah ti dice però voglio un po' approfondire perché questi due segni? perché il zoo con lo spagnolo? perché il ruminante? perché non poteva scempare che un animale che ha una coda sarà coscia un animale che non ha una coda non sarà coscia o al contrario che il creatore ha scelto che questi saranno le segni della casciù perché questi segni? perché il zoo con lo spagnato? perché il ruminante? dicono le maestri c'è tanta tanta approfondire il zoo con lo spagnato è un zoccolo che è spagnato dall'inizio fino al fine ma per esempio il camelo il suo zoccolo un po' è spagnato però non totalmente non dall'inizio al fine che vuol dire quando tu ce l'hai un spaccatore dall'inizio fino al fine? voglio dire che c'è destra e c'è sinistra molto chiaro c'è puro che rappresenta la destra c'è sinistra che è un po' c'è buono che è destra e c'è male che è sinistra c'è coscia che è destra e c'è non coscia che è sinistra dicano le maestre è l'obiettivo dell'ebreo del giorno che lui nasce è tutto il giorno capire la spaccatura della sua vita le cose che lui fa fanno parte della destra sono cose giuste da fare sono cose che mi avvicinano al creatore sono cose che fanno da me è un uomo meglio o no fanno parte della sinistra non va bene si ma eh si questo è il tuo lavoro per questo tu mangerai un animale che ha un zoccolo spaccato perché tu tutta la tua vita del giorno che tu nasci alla mattina che ti svegli alla mattina fino a che vai a dormire tu devi tutto il giorno pensare che lo che faccio è giusto o non è giusto le altre il zoccolo non è spaccato fanno che è giusto o non giusto dopo vediamo giusto o non giusto prima si fa dopo si vede dopo si pensa per l'ebreo non è così non si fa il zoccolo è spaccato si deve capire bene da che parte fai la parte delle fili della luce o mai sia fai parte della oscurità però si è così che uno deve sempre capire la sua vita la spaccatura perché deve anche essere illuminante sa di chi che voglio dire illuminare lui la mangia e la rimastica la mangia e la rimastica la mangia e la rimastica quattro volte la vacca ha quattro stomacchi si così mangia rimastica mangia rimastica dire ma anche se tu hai trovato la spaccatura e tu hai pensato che questa cosa è buono e quest'altra cosa è male rimasticala un'altra volta sempre la vita deve ripensare forse le decisioni che tu hai pensato che erano giusto da fare non erano giusto forse lo che tu pensava che era male poter sì la cosa giusto da fare ossia è una cosa potere scegliere è però ancora più forte uno che può admettere che ha sbagliato nella spaccatura ammettere lo che tu pensavo fino ad oggi che era male forse è il buono e lo che tu pensavi lo che era buono forse era il male e non ruminare una volta e non ruminare due volte però anche dieci volte sa di chi è la Torah nostra chi è il segno dell'eminante chi è la Torah rappresenta quello che ha il dominante noi siamo chiamati ebrei Yehudim da dove viene questa parola? Qual è la fonte della parola Yehudim? Yehudim la fonte è di Yehudim sa di chi Yehudim? Si racconta che quando i fratelli hanno deciso a uccidere Giuseppe senza entrare in tutta la storia perché voglio adesso vi raccontare in tutta la storia di Giuseppe siamo già in Libro di Vaikra abbiamo già passato Bereshi però comunque hanno scelto perché hanno scelto Yehudim dice aspetta aspetta va bene abbiamo ragione lui deviamo uccidere però abbiamo fatto la spaccatura abbiamo capito quella cosa giusta da fare però l'ha rovinata forse non è giusto per uccidere con le mani la vendiamo come schiavo questa è la prima volta che Yehudim rumina solo che già fu scelto già fu spaccato e dopo la vediamo un altro quando la vediamo? con Tamar Yehudim Yehudim il suo primo genito era sposato con Tamar e il primo genito suo è morto quindi ha dato Tamar al suo secondo figlio e il secondo figlio era morto perché c'è una mitzvah di Ibon quando una donna è sposata con un ebreo e l'ebreo è mai sia morto senza avere figli si fa sposare questa donna con il fratello fino a che è arrivato al terzo figlio e dice Yehudim no 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 lasciamo stare tu uccidi i figli mie aspettiamo poi state finanziate però non può dire aspettare perché è una lacrame e vai e dice no dice la mene voi state finanziate state sposate però aspettate lui è ancora piccolo per consumare il matrimonio e quando sarà più grande consumiamo il matrimonio e mentre faccio la storia corta lei va entra incinta e Yehudim che dice dobbiamo ucciderla una donna che è finanziata che è andata con un'altra ha tradito dobbiamo ucciderla e all'ultimo momento Tamar fa vedere a Yehudim per chi è il bambino il bambino suo e la Yehudim capisce quando lui ha sbagliato Dino dei maestri in questo momento che lui ha smesso la sua sbaglia che lui e il terzo figlio non la voleva mai dare solo una scusa in questo momento Dino dei maestri lui ha iniziato a capire che anche con la vendita di Giosetto ha sbagliato Zadikim la cosa più difficile nella vita sapete che è è ammettere che ha sbagliato e tanti di noi Zadikim rimaniamo fare le stesse sbagli nella vita non perché davvero pensiamo che le sbagli sono giuste solo che non siamo pronti ad ammettere che le sbagli non sono giuste perché se io admetto che sbaglio vuol dire che io ho sbagliato ah questo è difficile c'è la Torah la spaccatura è importante destra e sinistra però più importante della spaccatura è importante rimubinare ripensarci sempre anche se hai fatto una cosa a volte ci sono gente dopo 20 anni ci sono gente dopo 50 anni ci sono gente subito ci sono gente povere mai ad ammettere sì questo la importanza dell'ebrismo o questo la casciutta non è così uno pensa a un orancio un animale cascioso con lo spaccato ruminante che succede no 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 sono proprio queste caratteristiche che l'ebreo deve cercare la ricerca per la verità e per la verità assoluta e questo è la fortalezza del nostro popolo noi possiamo spostarci da un posto all'altro già tre mila anni siamo spostati da una città all'altro da un paese all'altro da un mestiere all'altro ho parlato con un ebreo non lo so questa due settimane fa ho detto sì quando erano giovani erano gioiolieri dopo ho iniziato a vendere vestiti e dopo ho iniziato a fare alberi che succede come è cambiato così di solito gioiolieri per la vita vestiti per la vita asberghe per la vita no no così è noi ruminiamo rimastichiamo però non sono i soldi e tutto in la vita uno deve essere così questa è la forza c'è scritto vinci lev banim e lavot lev a vot e il banim e il profetto dice una cosa incredibile prima che arriverà la Mashiach di solito come lavora di solito i genitori sono quelli che fanno le cose giuste e loro inserono ai loro figli non fatti questi sbagli così questo diciamo è il cammino il cammino naturale il padre è quello che è esperienza che è saggio che sa fare le cose giusto di sciar su un figlio e non fare le cose in un modo sbagliato dicono le maestri che prima che va arrivare il Mashiach sarà al contrario le figli diranno ai loro genitori come comportare il genitore non vuole mangiare il casher il genitore non vuole fare il shabbat suo figlio la farà suo figlio dirà papà si deve fare il shabbat papà si deve mangiare il casher e le breche faranno dice il profetto la accetteranno perché noi abbiamo questa capacità di illuminare anche se l'abbiamo fatto chi più del padre lo dimoscero a ben ha divorziato la sua moglie dopo il decreto di uccidere tutti i bambini ha detto che devo sto sposata con la mia moglie se il parola va a uccidere tutti i bambini che senso hai sto sposata con una donna se non posso avere le mie obbligazioni di fare figli e viene la sua piccola figlia Miriam quattro anni aveva tre anni dice papà tu sei peggio del faraone il faraone vuole uccidere sulle maschie tu con il fatto che sei divorzata con mamma e ha ucciso anche le femmine e che poteva dire scusa bambina tu hai tre anni che capisci del matrimonio e dei figli stai zitta vai giocare fuori con le tue giochetti fai le cose che gente della tua anni dei tre anni tu mi parla di matrimonio che capisce della tua vita invece no un ebreo ha la capacità di ruminare eh c'è una verità qui anche se viene detto da una figlia di tre anni e lui e lui si riposa queste le capacità che dobbiamo avere la tranquillità la mucca è un animale tranquillo tranquilla che tranquillità che capacità di riflettere di ruminare di esserci di di concentrazione questo questo è il cibo e uno che non mangia cachet un animale che non ha un zucco lo spaccato come riesce a capire destra a sinistra un animale che non rumina non lui mai metterà le sue ore non ha la capacità dentro la sua genetica le cose sono cambiate ma questo sa di chi la casciuta è la chiave del tutto dell'educazione il bambino che da piccolo non mangia cachet per lui non è che non è possibile perché ognuno può arrivare in qualsiasi posto non sarà più difficile là dentro c'è cosa che fu influenzata e che ci possa aiutare a tutti noi entrare e purificare là dentro che è il cibo e se uno purifica lo che è dentro anche usce purifica lo che esce tutti sono attenti o lo che entrano perché non tanti pensano lo che esce dalla bocca perché anche quello è importante iniziamo con lo che entra facciamo primo basic primo livello possiamo tutti vedere quanto il popolo si ruminerà e si comportrà in un modo ancora bene così possiamo vedere